Ciao a tutti, come state? Dopo un breve periodo di vacanza, vacanza in cui peraltro non sono andato assolutamente da nessuna parte, sono rimasto qua nella mia azienda, sono andati a fare qualche giorno via mia moglie e mio figlio, ma vacanza più che altro dai video. È stata un'occasione anche questo periodo sabbatico in cui non ho postato molto, in cui non sono intervenuto tanto per lanciare alcuni amici della pagina Agricoltura Innovativa e penso in particolare al dottor Alessandro Arosio che ci seguirà un po' la parte dei bovini, è un neolaureato veramente fenomenale che sta prendendo di mistichezza con il mezzo video, ma che è veramente un ragazzo pieno di contenuti ed è veramente molto garbato, oltre che molto molto preparato. Sto pensando al dottor Luca D'Alessandro che è fondatore di UXpo e una serie di progetti tra cui Agricoltori Digitali che ci sta insegnando un po' come comunicare per le nostre aziende che hanno un punto vendita, che hanno un mercato diretto con i clienti finali, che trasformano qualcosa, che hanno un sito internet come comunicare quello che facciamo online ed è veramente prezioso. Sto pensando anche a Mirko Del Duca di Reputazione Bancaria che ci sta spiegando un po' come avere un'educazione finanziaria un attimo più evoluta e passare finalmente non solo da contadini quali siamo orgogliosamente, ma a imprenditori e a investitori nel settore agricolo. Quindi la famiglia di Agricoltura Innovativa pian piano si sta allargando. C'è ancora molto spazio per chiunque di voi voglia portare un argomento specifico all'interno ovviamente del mondo dell'agricoltura che non è in questo momento coperto. Io vi invito, come ho già fatto in passato, a candidarvi e a aiutarci perché alla fine la pagina Agricoltura Innovativa non è di nessuno se non di chi ci mette la faccia e dice e condivide. È nata con questo scopo, cioè quello di condividere in agricoltura un mondo piuttosto chiuso che pian piano si sta aprendo, ma un mondo in cui è difficile avere informazioni direttamente dagli agricoltori. Quindi se c'è qualcuno di voi che si intende di riso piuttosto che di uva, piuttosto che di ortaggi, cose che io conosco molto poco, a me farebbe molto comodo e piacere avere la possibilità di ospitarvi anche come persone fisse nella mia pagina. Ma comunque, venendo all'oggetto del video di oggi, è un oggetto molto semplice, anche interlocutorio, sto facendo un giro nei miei campi, oggi è il, lo leggo per non sbagliare la data, perché tutte le volte sbaglio sempre le date, l'11 di agosto e sto facendo un giro nei miei campi, ho fatto un giro nei miei campi stamattina per vedere a che punto fossero i mais, io in questo momento ho seminato mais di primo raccolto che andrò poi a far pastone per i maiali, io come al solito farò il pastone con la metitrebbia e mettendo dentro anche un po' di tutolo e poi ho seminato dei mais di secondo raccolto, quelli dopo triticale che andrò a trinciare per il biogas che è mano a mano sempre più completato ma che purtroppo non è ancora finito. Quindi, vabbè, escludendo il discorso dei mais di secondo raccolto che vedete dietro di me e poi vi metterò delle immagini di copertura, qua c'è un campo molto basso per cui probabilmente lo vedete poco, è un mais che è completamente fecondato già, lo vedete alle mie spalle, il colore è molto bello, devo dire che per essere un mais di seconda mi sta piacendo molto e vedremo come si andrà avanti a sviluppare, mentre invece per quanto riguarda il mais di primo raccolto, anche qua il campo dietro di me è un po' basso, ho fatto un giro e ho controllato appunto l'umidità e lo stato di maturazione per capire quanto potesse essere il momento opportuno per poter tagliare, raccogliere. Oltre ad avere degli ibridi diversi e chi ha seguito i miei video sa anche che cosa ho seminato, io ho anche dei campi piuttosto difformi tra loro, per esempio il campo che ho alle mie spalle si chiama Vigna Lunga, è un campo che è nella parte alta, nella parte di qua molto ghiaioso e quindi è sempre il primo punto che io vado a trebbiare perché è sempre quello un po' più avanti degli altri e poi ho degli invece altri campi che sono un po' più sulla terra, che sono campi dove vado a irrigare meno, che sono campi dove la pianta rimane più verde e di conseguenza quindi aggiungo alla difformità dei miei terreni, la difformità di qualche varietà diversa tra loro e di conseguenza viene fuori un gran casino, io quando devo andare a tagliare devo sempre diventare matto per cercare di capire facciamo prima questo, poi facciamo quello là, poi facciamo quell'altro e anche imbroccare qual è il momento giusto per tagliare. L'anno scorso ho fatto il video, ho fatto una cazzata che tra l'altro ho avuto anche parecchio successo perché ho iniziato a raccogliere poi dopo mi sono dovuto fermare appunto perché avevo classe 600, un classe 700 e mi si è praticamente inchiodata la metitrebbia, quest'anno vorrei evitare di fare questa cazzata e vorrei beccare un po' meglio il periodo giusto per poi evitare di avere macinato un migliaio di quintali e dover poi aspettare una settimana per poi progredire e proseguire con gli altri. Quindi in buona sostanza facendo il giro, ho fatto il giro di tutti i campi, che cosa si vince? Si vince che siamo a una fine della maturazione lattea, ormai la linea del latte che generalmente dalla metà in poi si utilizza per valutare quando trinciare, dal limite alla metà meglio due terzi, è quasi completata. Ci sono alcune dei campi più verdi che fanno ancora un po' di latte del classe 700, un piccolo schizzo quando lo schiacci, ma più o meno ritengo che possa essere giusto raccogliere tra il 20 e forse meglio il 24 di agosto, quindi dare ancora su quelle due settimane, oggi è martedì, di conseguenza lunedì 24 agosto, sarebbero due settimane ieri. Chiaramente la cosa viene influenzata anche dalle temperature e anche dal meteo, perché se dovesse da domani iniziare a piovere e non smettere più, anche la maturazione rallenta un po', eccetera. Stavo anche facendo questo giro per capire se fosse il caso o meno di andare a fare l'ultimo giro di irrigazione, che sicuramente sto facendo sui secondi raccolti, perché è appena finita la fioritura ed è nel momento in cui consumano 6-7 mm di acqua al giorno, mentre questi ne consumano, dicono, 2-3. Ciò nonostante ho deciso di bagnarli, non tutti, ma quasi tutti lo stesso, perché appunto per dargli un pochino più di tempo e per non dovere poi dopo avere un dry down clamoroso e dovermi far scappare alcuni. Quindi 600 li bagno, 700 no e tutti i secondi raccolti li andrò anche l'ora di irrigare. Cosa dire? È sempre una valutazione interessante quella del momento della raccolta. Io, come al solito, chi mi segue lo sa bene, mi piace fare una raccolta abbastanza anticipata, più sul 35 di umidità, perché il pastone mi si conserva meglio in fossa, perché hai qualche problema meno di tossine, che più vai avanti e più rischi si possano sviluppare, ma soprattutto appunto per il discorso della conservabilità in fossa. Ovviamente non si deve partire troppo presto per poi avere il problema di non aver compiuto completamente il proprio ciclo, di non aver accumulato tutto l'amido che poteva accumulare, di lasciare il germe, magari parte del germe dentro al tutolo, anche se poi il tutolo io lo porto dentro e non lo riesco mai a portare dentro al 100%, di conseguenza una parte ti va via. Insomma, come ogni volta vi dico, è un compromesso che bisogna trovare tra la conservabilità e la massima produzione del mais. Il punto nero, come si suol dire, è il momento in cui si forma togliendo la cariosside che riesci a sgranare in maniera abbastanza comoda e la barriera tra il tutolo e la cariosside, di conseguenza la cariosside non mangia più e da quel momento praticamente deve solo perdere umidità. Il punto nero si fa a 32, 30. Per me partire quando c'è il punto nero, che potrebbe essere il momento ideale, non va bene perché io quando raccolgo, raccolgo all'incirca più di 100, 300, 120, più 120 ettari che 100 e di conseguenza non li raccolgo tutti lo stesso giorno, ma ci metto quasi 10 giorni a raccoglierli, portarli a casa e macinarli. Di conseguenza quando tu parti, se dovessi partire quando il mais è a 30, va a finire che quando batto l'ultimo è a 24 o a 22 o a 23. Io parto invece verso il 36, 37, mi è capitato anche 35, meglio, per poi arrivare a far l'ultimo sul 30, 29, al massimo, una cosa del genere. Perché poi quando si abbassano troppo la conservabilità veramente in fossa diventa problematica, il pastone si tabacca, specialmente se deve stare lì un anno. Insomma, nel corso degli anni mi sono incontrato parecchi problemi. Io come al solito sono tornato, I'm back, come diceva MJ quando è tornato a giocare, ripartiranno tutti i video perché pian piano ci avvicineremo a tutti i vari momenti topici che sono quelli della raccolta e non solo. Vi saluto e vi auguro un buon lavoro. Ciao ragazzi!